E' Matteo Malucelli, il vincitore della prima frazione in linea del Tour de Slovacchia 2016. Il corridore di Forlì, quinto ieri nel prologo inaugurale, ha superato proprio nei metri finali Filippo Fortin del GM Europa Vini, che alla fine si è dovuto accontentare del secondo posto, ma c'entra così il quinto podio in questa stagione. Per Malucelli, oltre alla gioia della vittoria, arriva anche la maglia di leader della classifica generale.